Spazio anche alle previsioni meteo, vediamo cosa attende la nostra Sicilia nelle prossime ore. Queste le previsioni meteo per la giornata di domani, domenica 24 settembre. Correnti moderatamente instabili interesseranno l'intera isola. Scendiamo quindi nel dettaglio della giornata di domani, nella quale avremo il cielo in prevalenza nuvoloso sui settori centro-settentrionali dell'isola, con la possibilità di rovesci anche a carattere temporalesco di debole o moderata intensità, altrove schiarite più ampie con basso rischio di fenomeni. Le temperature in ulteriore lieve calo sia nei valori massimi che minimi, qualche grado sotto le medie stagionali. Venti di maestrale di moderata intensità, mari mossi o molto mossi. Queste previsioni sono fornite grazie alla collaborazione con il Centro Meteorologico Siciliano, sigle a cura di AP Web Radio e in Social TV.